giovedì 25 aprile questo è liscio e macchiato buongiorno a Gabriele Gendotti buongiorno non lo vedete ma c'è c'è stato qualche inghippo tecnico comunque lo sentiamo forte e chiaro e l'importante è sentirsi quando si commentano le notizie prima di cominciare vi ricordo che trovate questo podcast anche su spotify basta che cercate liscio e macchiato e poi potete scrivervi gratuitamente alla pagina di liscio e macchiato su spotify questa mattina cominciamo dall'assemblea dell'UBS che si è tenuta ieri a basilea il corriere del ticino titola ma la fiducia non può essere regolamentata che è una citazione del presidente del cda della banca ci arriviamo qui vi faccio vedere anche la prima l'articolo di le tom che dice UBS molto preoccupata per i nuovi requisiti patrimoniali però dividere in due la faccenda perché una parte è stata dedicata alla regolamentazione e una parte alla questione dello stipendio di serger motti e del management pioggia di critiche da parte dei piccoli azionisti durante questa assemblea durata cinque ore rispetto appunto alla remunerazione che però il presidente del cda ha difeso dicendo che ermotti ha fatto una straordinaria performance e quindi merita di essere pagato il 10 per cento in più rispetto ai suoi predecessori ermotti ha probabilmente il compito più difficile nel settore finanziario a livello mondiale e il presidente del cda ha comunque assicurato che UBS non pagherà mai il suo management con i salari che invece corrispondono i concorrenti americani della banca svizzera negli stati uniti le grandi banche eccetera questo si è discusso tantissimo lele di questo salario anche il presidente del partito liberale svizzero ha detto la sua in maniera molto critica ecco cominciamo da questo aspetto poi andiamo sulla regolamentazione tu cosa ne pensi ma io penso che alla fine sono gli azionisti che decidono e purtroppo per fortuna questi azionisti che sono i proprietari della banca così hanno hanno deciso quindi dal profilo formale questo è persino compatibile con la famosa iniziativa minder che era stata votata con oltre il 70 per cento dal popolo che proprio aveva però statuito che compete all'assemblea generale puoi fissare le tre le retribuzioni degli organi quindi sotto questo aspetto credo che tutto sia corretto il problema semmai dal profilo diciamo così etico è giusto che una persona guadagni tutti questi soldi quando invece c'è tutta una popolazione che magari fa fatica e ecco questo si potrebbe discutere ma lo si potrebbe discutere un po in generale no penso andrea tu sai quanto guadagnano i calciatori che che vanno negli stati arabi a mio pare che il buon cristiano ronaldo guadagni attorno ai 200 milioni all'anno ecco qui sì che siamo fuori da ogni da ogni regola e da ogni accettabilità penso proprio che guadagnare 200 milioni per tirare quattro calci naturalmente banalizzo un po siamo eticamente molto più discutibile che 20 o 22 milioni a chi comunque una delle responsabilità a livello mondiale veramente enormi quindi ecco ma quindi secondo te lele è giusto che ermotti per quello che fa e quello che ha fatto sia pagato adesso non lo so era alla fine lo stipendio a tempo pieno sull'anno dovrebbe essere sui 19 milioni no è giusto io non dico che se sia giusto sbagliato dico che queste sono le regole del mercato al di là di quanto si diceva prima che poi concorrenti versano molto di più dal profilo etico è disputibile dal profilo legale evidentemente è una decisione che compete agli azionisti e se l'ottanta e passa per cento di azionisti così hanno deciso probabilmente c'è poco da fare la soluzione sarebbe quella di fissare un tetto a livello a livello legislativo ciò che comunque mi sembra parecchio difficile tra l'altro non è solo il salario di ermotti che è stato contestato in questi mesi ricordiamo la super polemica l'assemblea di novartis e tante altre cose ma come ricordava le leggendotti l'ottanta per cento degli azionisti ha approvato questo salario ma brevemente ancora su questo ecco come l'hai letta tu la mossa del presidente del plr svizzero che appunto un po sorpresa è andato all'attacco su questo su questo tema ma evidentemente dal profilo politico il problema esiste cioè perché bisogna poi far capire ai cittadini che c'è qualcuno che in nove mesi riceve riesce a guadagnare 20 milioni di franchi però poi dall'altra parte come già detto ci sono delle regole di mercato e anche delle regole statali che non impediscono questo tipo di remunerazioni quindi come dico dal profilo etico si può discutere dal profilo legale sicuramente le procedure sono queste e gli azionisti sono liberi di decidere di avvallare queste proposte diremo di remunerazione anche perché appunto siamo sul mercato quindi poi ci sono i CEO delle altre grandi banche americane europee che guadagnano soprattutto quelli americani molto di più lo stesso accade nella farmaceutica quindi discorso estremamente complesso ma l'altro punto forte emerso direi più importante rispetto al futuro riguardo rispetto al salario di ermotti è la questione della regolamentazione perché perché c'è stata una forte critica da parte dei vertici di UBS alle misure presentate dal consiglio federale per rafforzare le norme applicabili agli istituti troppo grandi per fallire la proposta del governo che dovrebbe diventare un requisito legale il prossimo anno potrebbe costringere UBS a cantorare tra i 15 e i 25 miliardi di dollari per essere in grado di resistere a una crisi il problema del credit suisse è stata la fiducia hanno spiegato i vertici della banca che però non può essere regolamentata di cui il titolo del Corriere del Ticino e quindi si chiede che la Svizzera resti in linea con quello che accade nel resto del mondo a livello di regolamentazione il manager irlandese presidente del CDA ha anche assicurato che UBS non è una banca troppo grande per fallire ma piuttosto uno degli istituti meglio capitalizzati in Europa con un efficace meccanismo di salvataggio che sarà ulteriormente rafforzato in futuro Sergio Armotti dal canto suo ha definito fattualmente errata l'argomentazione di chi sostiene che UBS con la sua grandezza dispone di una garanzia statale implicita cioè si fa per dire siccome l'argomento è questo siccome se salta UBS deve intervenire lo Stato ci sarebbe questa garanzia implicita che Armotti però contesta e aggiunge i rischi di UBS sono sostenuti dagli azionisti e dai detentori di strumenti e obbligazioni non dai contribuenti ecco su questo aspetto Lele ma evidentemente qui salta fuori ancora una volta il conflitto di interessi tra gli azionisti che evidentemente fanno gli interessi esclusivamente loro e della banca e gli interessi dello Stato degli interessi l'interesse generale che evidentemente deve in qualche modo darsi delle garanzie per evitare tracolli che poi possono capitare come abbiamo potuto vedere percepire per esempio con il caso credito svizzero ma anche con UBS di parecchi anni fa evidentemente io condivido le proposte del Consiglio federale rispettivamente anche della FIMA perché c'è un interesse generale da tutelare che è in contrasto con quello degli azionisti rispettivamente della banca medesima quindi credo che sia da evitare un tracollo a livello adesso se pensiamo alla Svizzera perché evidentemente UBS è un'organizzazione internazionale ma i rischi sono grossi nessuno in qualche modo riesce a immaginare cosa sarebbe successo se non si fosse salvato credito svizzero con questa operazione per la Svizzera sarebbe una vera catastrofe qui si rischia veramente di mettere in difficoltà uno Stato come il nostro quindi credo che norme regole che cerchino di evitare tracolli generali che poi andrebbero a colpire i cittadini le cittadine le aziende quindi credo che bisogna anche avere comprensione per le decisioni al Consiglio federale andiamo avanti allora ieri c'è stato il cambio di presidenza in Consiglio di Stato Cristian Vitta è il nuovo presidente prendere sostituisce Raffaele De Rosa per il prossimo anno la mia priorità è trasmettere sicurezza alla popolazione ha detto ieri a Tele Ticino allora questo cambio di presidenza ci dà l'occasione per fare un po' un bilancio un punto dopo il primo anno di legislatura con le leggendotti anche in prospettiva votazioni del nuovo giugno che saranno un po' lo spartiacque che detteranno la linea di qui ai prossimi anni però Lele un inizio della legislatura difficilissimo litigioso eh un sacco di dossier eh voglio dire che hanno creato scalpore litigi dal preventivo poi adesso siamo arrivati alla questione eh di Gobbi eh andiamo a votare su tre eh oggetti cantonali come sta il Consiglio di Stato e come giudichi questo primo anno di legislatura ma io credo che il Consiglio di Stato sta stia cercando di di fare il meglio e comunque ha una posizione una linea e poi questa si può condividere più o meno però almeno hanno una certa fermezza anche nelle decisioni e hanno anche dimostrato di avere la capacità di non cedere su determinate pressioni per esempio della della piazza e io credo che il problema del Ticino sono i partiti sono i partiti in generale e purtroppo devo dire tutti i partiti sono oggi un'espressione di di non c'è questa capacità di trovare delle soluzioni di lasciare da parte ogni tanto il partitismo proprio per cercare di eh trovare soluzioni eh mediate trovare soluzioni in un qualche modo condivise che evitino di spaccare il il paese io ve l'ho già detto credo più volte sto vivendo a livello di Suva un un esempio di partenariato eh sociale eccezionale dove ci sono i rappresentanti da padronato i rappresentanti eh dei lavoratori che trovano sempre delle soluzioni ma perché perché si siedono al tavolo con la consapevolezza e la volontà di trovare di trovare soluzioni questo viene a mancare in Ticino specialmente in questi ultimi in questi ultimi anni dove non c'è questa volontà perché condizionati dai partiti cioè quando quando si devono prendere decisioni per esempio a favore o contro i dipendenti dello Stato ecco non si può essere così condizionati eh da 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 principi da da anche proprio da da situazioni ferme che che dove non c'è disposizione disponibilità a a trovare a trovare compromessi ecco io credo che questo sia il vero problema del cattone Ticino che tutto tutto è condizionato da posizioni partitiche qualche volta purtroppo quasi inconciliabili. Il governo è stato un po' silenzioso cioè nel senso è un governo come dice Andrea un governo fantasma che non interviene quando c'è da difendere i propri progetti i propri dossier o quando c'è da spiegare una posizione prendiamole eh la sospensione l'autosospensione di Norman Gobby dalla gestione politica della polizia insomma lì ecco un comunicato stringato eh ma voglio dire ecco un governo poco presente no? Tra parentesi Lele tu è un dimezzamento anche se lì l'avevate deciso voi in questo caso si tratta di una temporanea autosospensione l'avevi vissuta proprio perché tu avevi ereditato il fisco da Marina Mazzoni. Ma io qui penso quanto è stato detto eh da Marco credo che forse il governo comunica male comunica male e manca un po' di coraggio nel comunicare perché ogni tanto il governo dovrebbe poter dire è così abbiamo deciso in questa direzione per questo è quell'altro eh motivo ecco qui effettivamente una certa carenza nella commissione nella comunicazione e credo che ci vuole ci voglia anche un po' di coraggio quindi di dire veramente come stanno le cose perché si è deciso e questo vale forse anche nella difesa di alcuni di alcune decisioni messe in discussione dal Parlamento o o o dai partiti credo che comunicare il motivo per il quale si è andati in una certa direzione sia sia fondamentale. Eh io ho ancora una domanda rispetto alla votazione e alla riforma fiscale no del 9 giugno tu hai tra l'altro fatto un'esperienza in conclusione della tua carriera politica in municipio a Faido sappiamo che i comuni e le ventinesi erano sul piede di guerra per contro questa riforma fiscale che comunque dividerà molto il paese si vota il 9 eh di giugno la tua opinione. Ma questo dei comuni è sicuramente il più il punto più debole di questa riforma eh fiscale perché il maggior onere per i comuni rischia di essere parecchio pesante si parla mi pare dell'1,66 per cento e quindi ecco per i comuni già in difficoltà questo eh diventerà un grosso un grosso eh problema. Quindi io credo che su questa riforma fiscale che nessuno sa come andrà a finire la votazione ci sono due aspetti. Uno è quello diciamo politico ed è evidentemente difficile far passare un messaggio per esempio dove si vuole è così eh sgravare i grossi redditi in un momento particolarmente difficile per la popolazione e per il ceto deboli. Quindi dal profilo politico il problema eh esiste e non sarà facile convincere le cittadine e i cittadini. Dal profilo razionale penso che eh il Ticino debba un po' adeguarsi con delle riforme fiscali proprio per mantenere questo substratto eh fiscale che eh alla fine è molto importante. Io faccio un po' fatica a capire per esempio eh le posizioni della sinistra che non dicano chiaramente d'accordo eh d'accordo diciamo andare contro gli sgravi fiscali eh proposti. questo è è scontato e mi sta bene ma probabilmente dovrebbero anche loro avere un po' più di coraggio e dire se non vogliamo eh tutta una serie di risparmi eh signori probabilmente dobbiamo aumentare eh le imposte. Poi il popolo deciderà ma qui c'è un po' di ipocresia nel pensare che si possa sanare i conti dello Stato senza aumentare le entrate e nel contempo aumentando le uscite o non contenendo i costi generali quindi. Ma secondo te bisogna aumentare le imposte? Io non dico che bisogna aumentare le imposte però chi si oppone a a tutte le misure di contenimento dovrebbero avere coraggio di dire. Di dirlo. Se c'è un aumento di imposte probabilmente risolveremo un po' dei nostri problemi. Cioè quello che io faccio fatica a capire c'è ci sono anche anche da parte di alcuni partiti no? C'è una volontà di voler spendere di più o di non voler contenere i costi e dall'altra parte però eh nello stesso tempo eh il discorso fiscale viene lasciato viene lasciato lì sul tavolo senza senza delle delle soluzioni. Credo che bisogna affrontare l'argomento di petto quindi non non ciò che io penso è che non sarà possibile risanare le finanze del cantone senza sacrifici sui due fronti o sul fronte fiscale quindi maggiore a limite maggiori maggiori entrate o senza invece un po' di di volontà di risparmio di contenimento dei costi di freno della burocrazia perché questo è uno dei grossi problemi del canton Ticino. Nel canton Ticino si è creato un eccesso di di burocrazia che è molto penalizzante per le cittadine per i cittadini e per le aziende. Qui qui bisognerebbe una volta anche fare una verifica e capire perché una costruzione nel canton Ticino ci mette tot mesi e nel resto della Svizzera la metà del tempo forse è dovuto anche un po' alla litigiosità dei ticinesi ma credo che il problema burocrazia sia uno dei problemi di questo cantone. Allora saltiamo un paio di notizie perché siamo andati lunghi in questa chiacchierata sul governo e sul canton Ticino. Magari ve la racconto io in breve c'è polemica in Svizzera questa è la prima pagina della regione a Gaza si muore a Berna si aspetta perché perché la Svizzera non ha ancora deciso di scongelare i 20 milioni di contributo all'UNRWA l'organizzazione dell'ONU che si occupa dei profughi palestinesi. Tale aiuto è stato sospeso in seguito alle accuse all'organizzazione di essere coinvolta quando dici dipendenti nel massacro del 7 ottobre in Israele però nel frattempo come vi raccontavamo è uscito il rapporto dell'ex ministra degli esteri francese Katrin Colonna che non ha trovato prove rispetto a questa accusa anche perché Israele non le ha fornite. Il PS giudica questa decisione del Consiglio federale scandalosa di non vergognosa di non diciamo sbloccare questi fondi la stessa cosa i Verdi anche perché ieri il governo tedesco ha invece ripreso la collaborazione proprio sulla base di questo rapporto mentre come vi dicevo il Consiglio federale ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo per analizzarlo e questo crea polemiche ma oggi è il 25 aprile Marco c'è stata tutta la polemica riguardo ad Antonio Scurati in Italia e se ne occupa con il titolo fascismo culturale Roberto Scarcella sulla regione. Brevemente sì tra l'altro Scurati ricordo è stato ospite di Endorfine l'anno scorso e quindi ma ha anche un po' un legame col Ticino in questo senso un scrittore autore di dei libri sulla biografia e sulla storia di Mussolini insomma quindi personaggio noto nell'ambito culturale letterale italiano doveva fare questo speech di un minuto sulla Rai è venuto fuori un casino perché l'hanno praticamente oscurato e censurato con la scusa che costava troppo allora abbiamo parlato dello stipendio di Ermotti parliamo di 18-19 milioni di euro di franchi all'anno lui ne avrebbe presi 1800 1800 euro che secondo Giorgia Meloni sono troppi lo stipendio mensile di troppi di molti dipendenti per un minuto di monologo sono troppi e poi lei l'ha pubblicato dicendo spero di non dover pagare però il tema è che alla fine Scurati come ricorda Roberto Scarcella nel suo editoriale accusava il governo Meloni di non aver mai preso le distanze ufficialmente e chiaramente dal da Mussolini e dal fascismo quindi insomma in questo 25 aprile sarà un 25 aprile di polemiche per questa vicenda che sta occupando la politica italiana e che ha tirato fulmini sul governo eh con questa eh stupida manovra di censura Lele ma evidentemente è stata una manovra di di censura e e naturalmente anche eh sicuramente il fatto del costo non è non non è vendibile a a nessuno cioè dovrebbe capire anche qui quanto pagano i commentatori eh di calcio che sono che sono parecchi che saranno pagati molto molto di più però credo che il problema sia veramente culturale cioè nel senso che in un momento difficile pensiamo a livello mondiale ma anche a livello a livello europeo il fatto di non distanziarsi chiaramente da questo passato oscuro e di dire chiaramente noi non non abbiamo più nulla a che fare con questo e rinneghiamo quello che è stato credo che sia anche eh dovuto cioè ci sono delle tendenze in atto in tutta Europa penso per esempio in Germania eh dove non non si parla di 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 fascismo ma ma di neonazismo ecco credo che ci sono delle organizzazioni tali e pericolose che oggi vanno in un qualche modo un po' ehm tenute sotto 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 controllo con anche delle misure da parte del dello Stato quindi ecco credo che eh qui è giusto fare chiarezza e giusto soprattutto verso i giovani di di far conoscere questo questo passato ed è per questo che se ne deve parlare che si deve continuare a ricordare i disastri che che sono stati che sono stati fatti i milioni di persone che hanno perso la vita e soprattutto eh le la niente quasi il fatto di avere annientato determinate regole democratiche che per noi sono evidentemente eh sacrosante quindi ecco la censura qui assolutamente non va bene se ne deve si deve parlarne si deve continuare a ricordare il passato a discuterne e probabilmente è anche comprensibile che qualcuno chieda ad esempio alla signora Meloni di distanziarsi in maniera chiara anche se bisogna dire cioè non è tanto lei che si deve distanziare ma evidentemente probabilmente il partito e tutte le persone che che la sostengono e e che lavorano dietro che lavorano dietro le quinte. In ogni caso tanti auguri a tutti i cittadini italiani per il 25 aprile che è la festa della liberazione non è la festa della sinistra è la festa della liberazione anche perché i partigiani erano eh comunisti socialisti eh repubblicani monarchici cattolici quindi è tutto questa parte dell'Italia che ha liberato il paese che ha contribuito a liberare il paese da una dittatura feroce che tra l'altro ha portato l'Italia nella tragedia della seconda guerra mondiale e dalla parte del nazifascismo. Grazie mille alle leggendotti per essere stato con noi questa mattina anche se non abbiamo visto. Grazie Lele. Sì grazie anche a voi mi scuso per questo problema con la telecamera ma la metteremo a posto per il prossimo incontro. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buona giornata e ci vediamo domani Marco. A domani buona giornata a tutti.